calano i ricoveri da covid 19 negli ospedali marchigiani tamponi a scuola per ricci è un modello da rilanciare su scala nazionale via san francesco si illumina per la giornata del trapianto vl sabato anticipo in casa della fortitudo bologna una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 del digitale terrestre in occasione di rossini news il nostro telegiornale che in questo venerdì 9 aprile apriamo facendo il punto sulla situazione sui vaccini nella regione marche e aggiornando anche sul tema contagi da covid 19 che oggi fornisce un benaugurante calo dei ricoveri in ospedale in questi primi dieci giorni d'aprile il covid 19 sta allentando il suo morso sulle marche soprattutto per il progressivo calo dei ricoveri che dà respiro alle strutture ospedaliere secondo il servizio sanitario regionale sono infatti 880 i pazienti ricoverati oggi nelle marche basti ricordare che erano una cinquantina in più a inizio mese si allenta la morsa anche sulle terapie intensive scese ora a 134 pazienti dopo tanti giorni sempre sopra quota 140 stabile il dato dei contagi col tasso di positività al tampone al 17 per cento 452 i casi in regione 96 quelli nella provincia di peso rubino su 2661 nuove diagnosi per un totale di 5 mila 122 tamponi effettuati dai contagi ai vaccini il governatore acquaroli e l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini hanno fissato alcuni punti cardine durante la visita nelle marche del generale figliuolo l'obiettivo è salire da 9 mila a 15 mila vaccinazioni al giorno e di farlo nelle prossime settimane con astrazeneca per le persone fra i 60 e gli 80 anni con pfizer e moderna per over 80 e fragili a pesaro la campagna vaccinale è aumentata nel polo per soggetti fragili di muraglia e ora ha pure registrato il completamento delle vaccinazioni degli ospiti di casa roverella e casa aura di santa colomba qualche coda qualche ingorgo e qualche polemica negli ultimi giorni invece all'ex il ristò una problematica sottolineata dallo stesso sindaco di pesaro matteo ricci ci sono pochi medici è molto semplice al di là di una oggettiva difficoltà perché su astrazeneca perché ridistribuivano in parte astrazeneca quindi c'è stata difficile diffidenza generale in tutto il paese non solo da noi per le vicende comunicative diciamo legate ad astrazeneca però ci sono pochi medici noi abbiamo allestito l'area del ristò per 16 postazioni ieri c'erano due medici tre medici stamattina mi risulta la stessa cosa e quindi evidente che se in una struttura che funziona bene non ci metti medici necessario il personale necessario i vaccini ne fai di meno e si crea la fila è abbastanza è abbastanza semplice il meccanismo quindi credo che questo sia il motivo ribadisco noi possiamo trovare i posti più belli del mondo ma se poi non ci sono i vaccini o non ci sono i medici per farli le file ogni tanto si creano quando ci sono stati i medici tutto è andato perfettamente c'è stato una grande un riscontro molto positivo da parte della cittadinanza ieri e mi pare anche oggi non c'è il personale sufficiente ovviamente le persone si lamentano seconda giornata di tamponi nelle scuole medie della città di pesaro ieri vi abbiamo mostrato la situazione alla scuola gaudiano oggi siamo stati alla dante alighieri dove le sindaco matteo ricci ha ribadito la bontà di questa operazione di prevenzione sanitaria seconda giornata del terzo screening nelle scuole organizzato dal comune di pesaro seconda giornata dedicata alle scuole medie oggi con seconde e terze medie ieri con le prime medie emergono anche i primi dati e dati che hanno visto circa tre positivi nella giornata di ieri nelle prime medie una decina già emersi oggi in questa mattina dunque uno screening che sottopone a tamponi tanti studenti e che dunque porta anche a far emergere questi risultati screening che qui alla scuola dante alighieri dove ci troviamo in questo momento ha visto anche la partecipazione del sindaco di pesaro matteo ricci che ha voluto ribadire ancora una volta il valore di questa iniziativa ieri ho incontrato il ministro bianchi alla pubblica istruzione e ho ribadito che se vogliamo davvero avere una scuola sicura l'unico modo che abbiamo è quello di monitorare costantemente i ragazzi da qui alla fine dell'anno scolastico non c'è altra strada perché i ragazzi sono fuori dalla campagna di vaccinazione fino ai 16 anni non verranno vaccinati sopra i 16 anni presumibilmente verranno vaccinati durante l'estate alla fine dell'estate quando l'anno scolastico sarà sarà finito e quindi se vogliamo davvero garantire il più possibile una scuola in presenza e una fine ordinata dell'anno scolastico l'unico modo è questo abbiamo costruito un modello che può essere utile a livello nazionale c'è nella volontà del ministro quella di controllare i ragazzi in tutte le scuole stanno studiando il meccanismo organizzativo e ci sono 150 milioni a bilancio perché nella DL sostegno che si sta discutendo in queste ore ci sono 150 milioni destinati al controllo dei ragazzi nelle scuole quindi questa esperienza di peso ormai non è più un esperimento per la terza volta è fondamentale questa settimana grazie al lavoro che Mila Giuliana hanno organizzato insieme agli istituti scolastici siamo nelle scuole medie la prossima settimana saremo nelle scuole superiori e i dati che stanno emergendo sono dati interessanti perché complessivamente il livello l'affluenza intanto è molto alta perché siamo un'affluenza intorno al 70 per cento dall'altra e stanno uscendo diversi positivi non in maniera esorbitante che vuol dire che la scuola tutto sommato è un luogo sicuro ma ieri tre oggi già siamo a 10 a metà mattinata quindi stanno uscendo dei numeri che dimostrano che se quei ragazzi non fossero stati controllati con il tampone veloce inconsapevolmente nei prossimi giorni avrebbero rinfettato altri compagni di classe familiari e via dicendo non solo comune di pesero ma c'è una complessa macchina operativa alle spalle di questa operazione croce rossa a il aspes e volontari della onlus gulliver tra i protagonisti di questo importante impegno a supporto dello screening un bellissimo progetto del sindaco matteo ricci che unisce il mondo della scuola con il volontariato e i sanitari la nostra parte con ali sarà quella di fornire i volontari che regolarmente daranno l'ingresso degli studenti controllando le temperature e controllando i documenti degli studenti in più abbiamo dei volontari che sono medici infermieri che daranno una mano a fare i tamponi una sinergia comunque completa che fa della città di pesero un modello nazionale pesero ha superato quota 96 mila abitanti nel prossimo servizio andiamo a vedere qualche aggiornamento proprio relativo ai dati demografici della città 96 mila 238 abitanti e questa la cifra aggiornata di residenti nel comune di pesero secondo la ricerca elaborata dall'ex preside del bramante genga paolo barchiesi e pubblicata nei giorni scorsi dal resto del carlino un dato sulla popolazione che offre una anticipazione sulle prime cifre a chiusura di un 2020 profondamente segnato dalla pandemia e destinato a riformulare radicalmente alcuni di quei numeri che hanno caratterizzato l'ultimo annuario demografico pubblicato dal comune di pesero relativo all'anno 2019 un anno in cui le covi 19 era un termine ancora masticato da pochissimi esperti mentre il 2020 è destinato a cambiare diversi dati sul comune a cominciare da quello sui matrimoni che a pesero nelle 2019 furono 267 c'è una cifra cresciuta negli ultimi cinque anni dopo un calo abbastanza costante di questi matrimoni erano invece crollati quelli con reto religioso scesi a 94 il 2019 aveva anche registrato 167 divorzi un altro dato che rischia di subire uno scossone nel 2020 è quello relativo all'età media della popolazione cittadina dopo il fardello di lutti trascinato dalla pandemia a fine 2019 pesero aveva infatti 7.000 persone di età compresa fra gli 80 e gli 89 anni e poco più di 1.500 persone dai 90 anni in su un'età media della popolazione cittadina che si attestava sui 47 anni un dato che invece non dovrebbe squilibrarsi è quello della distribuzione della popolazione fra quartieri secondo l'attuale geografia amministrativa a fine 2019 il quartiere più popoloso della città era quello di monte granaro muraglia con 13.018 abitanti secondo posto per l'agglomerato 5 torri santa veneranda con 10.951 terzo il centro storico con 10.540 centro e monte granaro sono anche le due zone in cui si concentrano più cittadini stranieri con più di mille in ciascun quartiere in totale erano 7.300 cittadini stranieri residenti a pesero a fine 2019 ovvero il 7,7 per cento dell'intera popolazione cittadina la comunità straniera più presente a pesero è quella romena con 1.622 residenti al secondo posto i 971 cittadini moldavi al terzo i 641 ucraini ed è arrivato poco fa in redazione un comunicato congiunto del comune di peso di gradara e gabice che si vedono esclusi dal piano regionale del turismo 2021 2023 delle marche una nota polemica dei tre sindaci perché vengono esclusi dai grandi attrattori turistici nonostante il solo castello di gradara sia di da tempo e di gran lunga il monumento più visitato dell'intera regione nonché già borgo più bello d'italia e nell'anno dantesco basterebbe questo a dire che il piano trienale dicono i sindaci è tutto sbagliato e tutto da rifare l'11 aprile è la giornata nazionale della donazione e del trapianto di organi una giornata che l'aido e il comune di pesaro celebreranno illuminando il porticato di via san francesco in centro a pesaro per sensibilizzare alla tematica della donazione nella prossima intervista gli esponenti di aido pesaro ci spiegano il valore di questa giornata saranno tre giorni in cui la luce rossa dominante in queste zone servirà a sensibilizzare la l'animo dei pesaresi nella donazione la donazione che è molto importante che sia a conoscenza di tutti i cittadini non viene più fatta tramite moduli dalla nostra associazione oppure in minima parte ma soprattutto viene fatta al momento in cui uno va a fare la nuova carta di identità elettronica a questo punto il cittadino è richiesto di esprimere il consenso o la negazione alla donazione oppure il riservarsi di fare la donazione è molto importante quest'opera di sensibilizzazione anche in questo periodo di pandemia anche se i dati sono diminuiti rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda le donazioni e i trapianti infatti però ci sono sempre dei buoni risultati ma la situazione in italia vede circa 9 mila persone in attesa di trapianto ogni anno per queste persone soltanto la metà riusciamo a ottenere una operazione salva vita quindi è molto importante che si aumenti che ci sia una consistente disponibilità di persone pronte a donare al momento della cessazione della vita pronte a donare i propri organi anche perché ogni persona disponibile può aiutare altre sette persone grazie a sette organi diversi che possono essere espiantati e trapiantati purtroppo in questo sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo dovuto non abbiamo potuto fare l'opera di sensibilizzazione nelle scuole con i ragazzi che per noi sono il volano della nostra associazione perché poi sono loro che parlano con gli amici parlano in famiglia parlano in genere e sono il nostro e sono il nostro futuro però insieme con un vecchio con un progetto Donation con la collaborazione della regione Marche stiamo facendo un'opera di sensibilizzazione da remoto sia con le scuole e quindi con le classi e con i ragazzi speriamo di avere dei buoni risultati anche in questo senso e naturalmente è quello che dico dite sì dite sì dite sì anche al momento in cui andate a fare o rinnovare la carta di identità dove potete esprimere al comune se siete favorevoli o no o naturalmente se volete ripensarci però dite sì 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 perché ce n'è tanto bisogno il 20 aprile sarà venduta all'asta alla casa Gonnelli di Firenze una bacchetta da direttore d'orchestra appartenuta a Gioacchino Rossini si tratta di un pezzo in avorio intarsiato ebano e mandreperla che fu donata dal comune francese di Passy a Rossini un cimelio che sarà venduto partendo da una base d'incanto di 1500 euro vi abbiamo mostrato ieri i lavori in corso sul cavalca ferrovia di Pesaro oggi vi mostriamo altre fotografie dall'alto che mostrano la demolizione dei parapetti esterni del ponte che verranno sostituiti come previsto dal primo stralcio di lavori sulla struttura manichini al posto di clienti e questa la provocatoria forma di protesta contro le chiusure dei ristoranti e i mancati ristori messa in scena dal ristorante vecchia osteria di Marotta dove il titolare Simone Massi ha acceso l'attenzione sulla problematica tenendo nel locale luci soffuse e manichini seduti al tavolo visibili anche dall'esterno del locale ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a indicarci al numero whatsapp 370 366 7210 già a fine 2020 ci eravamo occupati del caso di piante pericolose e invasive in via milite ignoto e come vedrete il problema si è tutt'altro che risolto la situazione è questa noi sono 20 anni che siamo dietro con il comune a fare una semplice richiesta di sostituzione graduale di questi ipocastani non protetti ormai ultra sessantenni e quasi tutti malati chiediamo che il comune si prenda insomma la responsabilità di sostituire gradualmente queste piante non di fare un abbattimento totale noi chiediamo che vengano sostituiti con degli alberi meno invasivi perché stanno rovinando le macchine stanno rovinando le recensioni delle case c'è il rischio per i passanti che di prendere castagne in testa sono cose che noi continuiamo a chiedere da 20 anni ultimamente io ho avuto l'autorizzazione per un passo carabile al comune di togliere una pianta sono andato a togliere questa pianta praticamente dentro c'è un buco grosso che mi ci passa al braccio quest'albero magari fra un mese due mesi fra un anno a forza di rovinarsi sarebbe potuto cadere su una macchina o su un semplice passante o come su di noi che siamo qui a parlare in questo momento quindi noi chiediamo semplicemente al comune o all'aspes che è quello che gestisce il verde pubblico di fare come hanno fatto in viale trento ci sono degli alberi rovinati che mettono a repentaglio la vita dei cittadini perché non lo devono fare qui che sono 20 anni che lo chiediamo sono già cascate tre piante su macchine c'è stato il rischio per delle persone di farsi male prima di natale un signore con la moto nell'incrocio dietro le mie spalle ha preso con la ruota davanti una castagna è caduto e l'hanno portato via con l'ambulanza perché si è slogato una spalla non è più possibile andare avanti così abbiamo le prove che questi alberi sono malati perché ci sono tronchi con buchi dentro enormi chiediamo che finalmente prendano una posizione e ci dicano va bene fra un anno facciamo questo lavoro lo facciamo fra sei mesi ma che facciano qualcosa perché qui prima o poi ci scappa il morto tutto qui e dunque questa era una delle vostre segnalazioni per manifestarci quello che non va in città però c'è anche qualche telespettatore che ci invia foto goliardiche come daniele che dal bar centrale di urbagna ci invia queste foto mostrando la curiosa analogia tra le tende del locale e il profilo di dante alighieri insomma non c'è che dire nell'anno del settecentesimo anniversario dantesco c'è chi vede il sommo poeta un po ovunque e concludiamo con lo sport e in particolare con le basket perché domani tornerà in campo la carpegna prosciutto basket pesero in turno d'anticipo sul campo della fortitudo bologna un parquet che un anno fa contrassegnò una vittoria ritrovata dopo lunga astinenza e matteo tambone spera che sarà così anche questa volta è un periodo delicato la fortitudo è una squadra con con molto talento anche se è un po discontinua cioè non togliere il fatto che sono una buona squadra noi stiamo ultimamente stiamo un po faticando stiamo combattendo con un'altra assenza per via del covid purtroppo però la squadra comunque è sempre resta positiva si sta impegnando al massimo da partire dal coach dallo staff dai giocatori per riuscire a fare una buona partita sabato la forza di questa squadra spesso nei mesi precedenti è stata l'entusiasmo il voler non darsi limiti ora c'è una classifica che comincia a essere incerta è qualcosa che può condizionare sicuramente c'è un po di pressione in più perché le squadre che prima erano sotto di noi sono avvicinate o c'è un appunto ripreso le partite che ci restano che sono cinque sono tutte sono tutte importantissime importantissime e delineranno poi alla fine se andare a pre-off o meno ecco a livello personale che finale di stagione per tambone ma adesso c'è una grande sfida perché non ho quest'anno già dopo poco playmaker adesso con l'assenza di robinson sicuramente farò più minuti da playmaker e dare la squadra a girare meglio ecco più possibile quindi è una bella sfida e cercherò di fare il massimo e con lo sport si conclude la nostra edizione del telegiornale prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento della serata e del weekend cominciamo con la nostra prima serata che comincia alle 21 e 15 con una nuova puntata della tv dei viaggi dedicata all'algeria a seguire alle 21 e 30 chi si fosse perso la puntata di generazione silvere in onda ieri alle 19 la può rivedere appunto questa sera alle 21 e 30 gli ospiti sono davide schembri nutrizionista clinico olessia tambovzeva della fattoria del borgo e roberto paoletti coordinatore coordinatore regionale marche abruzzo 50 e più vi ricordiamo naturalmente l'appuntamento con la rassegna stampa del sabato in diretta condotta a partire dalle 7 e 20 d'antonio astuti e dopo la rassegna stampa qualche ora dopo potrete rivedere la lettura e il commento al vangelo della domenica cura di don marco di giorgio alle 10 e 30 replicato anche alle 16 e la domenica alle 8 e alle 11 sempre domenica è il momento di wine and luxury come ogni domenica sera alle 20 e 30 il programma condotto da emanuela pacelli che avrà in questa puntata ospiti serena cimmino responsabile del palazzo dei mercanti di ascoli piceno l'ospite esperto enogastronomico otello renzi elmuth cocher presidente di merano wine festival e nico sinisgalli executive chef del ristorante tazio di roma e questi sono gli appuntamenti che vi terranno compagnia questa sera e in questo weekend con rossini tv si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale da parte mia e di tutta la redazione di rossini tv il più cordiale saluto è una buona continuazione di serata con i nostri programmi di rossini tv Grazie.